Anche a queste cose sicuramente sarà importante perché c'è un'offerta tecnica, adesso naturalmente pensiamo alla riapertura di tipo per i cittadini, ma sono previsti interventi che loro hanno offerto soprattutto nella direzione del risparmio energetico, perché comunque dico nei particolari che quando riguarda la fornitura di gas metano e anche di energia elettrica ci sono già dei contratti degli anni precedenti che continueremo a mantenere, però abbiamo messo delle condizioni per poter avere quel punteggio da permettere all'azienda di poter vincere la gara che comunque lavorerà nella direzione del risparmio che è comunque a favore del Comune, oltre alla quota annuale che noi avremo dall'azienda per aver concesso questo impianto attraverso una convenzione e la concessione proprio di tutta la gestione.